Quali opportunità puoi cogliere con finanza.tech? Ecco una breve guida. Tutte le opportunità per migliorare le performance finanziarie della tua azienda saranno presenti nella sezione progetti della tua dashboard. Qui troverai le opportunità che il tuo analista di riferimento, coadiuvato dalla nostra intelligenza artificiale, ha generato per la tua azienda, basandosi sulle informazioni raccolte in precedenza. All'interno del progetto potrai identificare di quale tipologia di prodotto finanziario si tratta, quanto è l'importo, la durata, le modalità di rimborso, TAN e TAEG, eccetera. Non è tutto. Puoi anche creare direttamente tu un progetto. Nella barra superiore della tua dashboard, in base al tuo profilo, avrai accesso a diversi prodotti che potrai gestire in autonomia. Scoprili tutti e non lasciarti scappare nessuna opportunità.